Canta devi farlo sentire, ali, anche perché è una parola, insomma, è comune anche all'arabo, no? Ali, ma altrimenti se voi dite ali, non va da lo stesso. Il persiano, soprattutto quando è all'inizio di una parola, vengono a sentirsi, no? Non è così, ma andiamo a ali. Poi c'è la trascazione, ovviamente, adesso vi faccio vedere come si fa il persiano. La lettera si chiama Eni, e voi la sapete articolare. La lettera è questa, ha una testina sopra la riga e il resto del corpo sotto.